Sono Naomi Monti, sono nata a Roma 30 anni fa, nonostante abbia svolto studi classici al liceo, mi ha sempre appassionato la biologia, la ricerca, perché è straordinario come una cellula possa semplicemente vivere, sopravvivere, svolgere le proprie funzioni indipendentemente da come svolgiamo le nostre vite. Mi ha sempre affascinato nella parte interna di una cellula, dal DNA, come siamo poi noi fatti all'esterno, ma che poi dipende tutto da come si comporta una cellula nel nostro organismo. Quindi questo mi ha sempre affascinato, nonostante abbia utilizzato, usato percorsi diversi al liceo. Poi mi sono quindi laureata, grazie a questa passione, in scienze biologiche alla sapienza e successivamente in biologia cellulare come laurea magistrale. In questa occasione, durante il mio percorso di studi, ho avuto la possibilità di conoscere il professor Fuso tramite una lezione e mi ha affascinato il suo campo di ricerca. Quindi grazie a questa possibilità ho chiesto l'opportunità di poter entrare in questo laboratorio, dove sono rimasta successivamente dopo la tesi magistrale. Nel nostro laboratorio, di cui faccio parte, ci occupiamo sostanzialmente di cellule della mammella, sia di linee tumorali sia di linee normali. In particolare il mio progetto si occupa di studiare le linee della mammella, sia normali che tumorali, in microgravità. La microgravità viene simulata attraverso uno strumento, l'RPM, Random Positioning Machine, che come potete vedere effettua dei cambiamenti di orientamento di direzione del tutto casuali, quindi random, in modo tale da poter creare dei vettori uguali a zero, in modo tale quindi da simulare la microgravità vera e propria. Quindi il soggetto, in questo caso le nostre cellule non sono in grado di opporsi a questa forza e quindi si comportano in maniera totalmente diversa, perché la microgravità comunque è un parametro che va ad influenzare la forma, la morfologia e il comportamento cellulare. Infatti abbiamo visto dei cambiamenti su delle cellule che subiscono l'RPM, che sono soggette quindi alla microgravità, dei cambiamenti morfologici, ma anche dei comportamenti a livello biologico. Infatti abbiamo notato un aumento di quella che viene chiamata apoptosi, c'è una morte delle cellule programmata in base al quantitativo di tempo che vengono sottoposte a questa microgravità. Quindi le cellule per vedere questo le abbiamo utilizzato sia delle linee normali, sia delle linee tumorali di cancro al seno. In questo caso quindi possiamo per valutare quali siano le differenze in queste due linee cellulari, per quanto riguarda sia la capacità di sopravvivere, quindi di continuare a proliferare e a crescere, oppure la loro capacità di andare incontro ad apoptosi, quindi non sopportare la pressione della microgravità e quindi andare incontro a quella che appunto viene chiamata la morte cellulare programmata. Per fare questo stiamo cercando di analizzare i vari pathway, quindi le vie metaboliche coinvolte sia nella sopravvivenza che nell'apoptosi. e quindi stiamo cercando di verificare quali siano veramente le molecole coinvolte e quindi i vari segnali coinvolti in questo processo, perché le cellule possono andare incontro a proliferazione oppure incontro quindi alla morte cellulare. In questo caso quindi stiamo cercando di capire come cambia il comportamento cellulare quando è sottoposta una determinata cellula alla microgravità e ovviamente per fare questo le stiamo confrontando anche con delle cellule cresciute, per esempio on ground, quindi su queste piastre, quindi o su queste piastre o su altri tipi di piastre, ma comunque che non sono soggette alla microgravità, in modo tale da poter fare un confronto nel comportamento delle due linee cellulari, sia coltivate in piastra, quindi on ground, sia coltivate nella RPM, quindi soggette alla microgravità.